Ciao, sono Cristia Lucia, sono un venditore che lavoro da Decatron, sono un professionista di Muay Thai e sono tuttora il campione italiano in carica. Ho iniziato all'età di 7 anni con il karate, negli anni si può dire che praticamente quel tipo di combattimento là non mi bastava, crescevo, volevo avere di più e sono passato quindi all'età di 15-16 anni al kickboxing e poi successivamente alla Muay Thai dopo essere andato in Thailandia per un periodo di due mesi. Ho avuto subito un approccio abbastanza forte con questo posto che fa di questo sport lo sport nazionale, infatti già in Thailandia i bimbi a 6 anni combattono da professionisti già senza protezione, già con le comitate, io arrivavo da un passato amatoriale dove combattevo qua in Italia con le protezioni. Ho scelto la Muay Thai perché include tutti i colpi che riguardano il nostro corpo, dai colpi di braccia, ai colpi di gomito, alle ginocchia e ai colpi di gambe, cioè le tibiate. A volte visto come uno sport duro o come uno sport a volte violento, in realtà non è così. Con tutti gli atleti che ho combattuto tuttora ci sentiamo, tuttora siamo amici e con tutti i miei fattori abiti insieme. Sarebbe bello finire tutti i match senza nessun occhio viola o senza nessun taglio, purtroppo non sempre è così e lavorare in un posto che valorizza la mia attività sportiva per me è una grandissima fortuna. Art Training Fight Easy perché io penso che più una persona si allena, più una persona crede in quello che fa e più i risultati arrivano obbligatoriamente. Quindi vi aspetto il 19 di marzo a Moncaglieri per lo Storm Fight, per il mio titolo italiano professionistico Art Training Fight Easy. Grazie a tutti.